attenzione ora, sempre in mezzo ci chiamo prendiamo una carta mettiamo in centro il mazzo la carta aprisce sempre in centro il mazzo va per questa è un istante e sopra è un istante passaggio a volo e facciamo a chi non ha capito se vi è piaciuto questo bellissimo video mettete mi piace oppure potete anche commentare la mista Scania buon divertimento e buona gioia a chi non ha capito